Ciao ragazzi, benvenuti! Oggi parliamo di Natale! E raga, oggi è Natale, non voglio rompervi le scatole col solito video del cavolo, vi spiego col... Quindi, oggi sarà un video tranquillo, un video che durerà poco, non durerà più di un minuto, ve lo giù... Non lo so. Nel video di oggi non parlo di niente. Ciao! Semplicemente era un video, ho detto a Natale, faccio un video in cui ringrazio tutti, gli faccio gli auguri. Il fatto è che sono partito sei mesi fa con zero iscritti e in sei mesi sono arrivato ad avere duemila poveretti che tutte le settimane si assorbono i miei video. Quindi vorrei ringraziare tutti, veramente. Grazie ragazzi perché mi state supportando e sopportando soprattutto. Se non credete al fatto che il canale sia andato così bene, vi leggo un po' di statistiche che ho scritte qua. No, in realtà non è vero, è un po' gli oro del cavolo con scritto cose che non c'entrano niente. Tra le statistiche più quotate c'è la parola campanellina che è stata detta 600.721 volte. Subito dopo c'è un pochettino. Un pochettino è stato detto 425.000 volte. Ho detto un numero più piccolo o più grande di prima? La lettera R invece è stata detta... Zero. Quindi, ma no, mi son messo una lente sola perché me ne è rimasta una e sto diventando scemo. A parte tutto, questo è solo per farvi gli auguri di Natale. Non vi faccio quelli dell'anno nuovo perché ci vediamo ancora. Mi raccomando, sabato saremo ancora qui. Noi facciamo la copertina del video. Non mi si mettono sti affari. Cioè praticamente mi sto vestendo da albero di Natale. Fa vedere se sembro abbastanza stupido? Sì, non più del solito comunque. Ciao! Ciao!